omicidio a gasperina coltellato un pregiudicato e i carabinieri hanno già individuato ed arrestato il presunto responsabile i due avrebbero litigato in un bar per futili motivi gli avvocati di catanzaro incrociano le braccia crisi del sistema giustizia ormai cronica assemblea della camera penale del capoluogo per illustrare le ragioni dell'astenzione per 11 settimane dalle udienze decise a livello regionale question time dimezzato e ritmo ancora blando pochi sussulti in consiglio regionale molte interrogazioni rinviate per l'assenza dei protagonisti rimaste senza discussione interrogazioni come quelle sulla bonifica di crotone sul futuro dei lavoratori della bramo customer care sulla depurazione sull'ambiente in generale tutto pronto per avvicoli di vini il centro di vivo valencia diventa un'enoteca a cielo aperto oltre 30 cantine coinvolte cibo e musica per le vie vibonesi ticket quasi sold out attese persone da tutta la regione buongiorno ben ritrovati nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro corriere tv in apertura alla cronaca un uomo Antonio Procopio di 38 anni è stato ucciso questa notte a gasperina secondo quanto si apprende la vittima un pregiudicato sarebbe stato raggiunto da un affendente al cuore il presunto responsabile Danilo Viscomi è stato già individuato ed arrestato dai carabinieri di Catanzaro guidati dal comandante Misogano il fascicolo di indagine è stato aperto dal PM Stefania Caldarelli secondo una prima ricostruzione fra i due sarebbe scoppiato un diverbio all'interno di un barra per futili motivi pare un debito di pochi euro poi Viscomi sarebbe tornato a casa e ritornato sul posto con un coltello quindi avrebbe inflitto il colpo fatale dopo una colluttazione emergono nuovi dettagli nell'inchiesta che la DDA di Milano ha condotto contro i capi ultra e di loro gruppi nelle curve dell'Inter e del Milan gruppi legati a doppio filo con l'andrangheta sentiamo c'è un capitolo specifico nell'inchiesta della distrettuale antimafia di Milano condotta contro i capi ultra e i loro gruppi nelle curve dell'Inter e del Milan a San Siro ed è dedicato alla gestione dei parcheggi attorno allo stadio è da qui che come un ideale percorso l'accusa risale ad alcune figure chiave in grado di scardinare elementi sui quali finora non è stata fatta luce lasciando qualcosa nell'ombra secondo l'accusa i parcheggi di San Siro erano sostanzialmente in mano a due persone Giuseppe Caminiti classe 69 di Gioia Tauro e Gerardo Zaccagni il primo finito in carcere mentre per il secondo il GIP ha disposto gli arresti domiciliari in questo contesto si mischiano nomi e figure di peso della criminalità tra cui Giuseppe Calabro i cui legami familiari diretti e indiretti lo riconducono a soggetti più o meno noti dell'andrangheta calabrese nella Locride da San Luca d'Africo e Platì dai Pelle Gambazza ai Mollica Morabito il suo nome è tra i quattro imputati tra l'altro del nuovo processo per l'omicidio di Cristina Mazzotti dopo quasi 50 anni L'attività investigativa svolta nei suoi confronti dalla DDA milanese avrebbe permesso dunque di individuare nel mese di dicembre 2019 contatti con il corregionale Caminiti ma, sottolineano i PM, i loro rapporti iniziavano già tra la fine degli anni 80 e dei primi anni 90 quando il giovane Caminiti muoveva i primi passi all'interno dell'organizzazione criminale diretta dallo zio Il gioiese, secondo l'accusa, si sarebbe avvicinato a Calabro con cui il San Luca aveva stretti rapporti un legame che gli avrebbe consentito negli anni una certa rispettabilità e protezione per tutelare i propri interessi economici e in particolare quelli derivanti dalla gestione dei parcheggi dello stadio San Siro a Milano Per Caminiti inoltre il GIP ha emesso un'ordinanza per l'omicidio avvenuto nel 1992 di Fausto Borgioli un cold case risolto forse dopo 32 anni E come abbiamo sentito proprio in chiusura di questo servizio Caminiti avrebbe confessato di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio di Fausto Borgioli, milanese classe 1942 L'omicidio risale alla sera del 19 ottobre del 1992 quando proprio Borgioli, considerato un esponente del gruppo criminale facente capo al defunto Francis Turatello veniva ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava per strada in via Strozzi nei pressi dell'ingresso dell'oratorio Don Orione E a proposito di giustizia anche gli avvocati catanzaresi incrociano le braccia Assemblea della Camera Penale del Capoluogo questa mattina per illustrare le ragioni dell'astenzione per 11 settimane dalle udienze decisa A livello regionale, sentiamo In questa settimana ci si asterrà delle udienze nel Tribunale circondariale di Catanzare negli uffici distrettuali del nostro distretto di corte d'appello di Catanzaro e anche la Camera Penale di Catanzaro aderisce a questa iniziativa proclamata dal coordinamento delle Camere Penali della Calabria che è un'iniziativa storica perché mai prima d'ora le Camere Penali di una regione avevano indetto un'astenzione a staffetta per ben 11 settimane perché impegneremo ogni settimana un circondario di corte d'appello Così il Presidente della Camera Penale Cantafora di Catanzaro Francesco Iacopino che ha presieduto l'Assemblea degli Avvocati Catanzaresi convocata per illustrare le ragioni dell'astenzione per 11 settimane dalle attività giudiziarie decisa dal coordinamento delle Camere Penali della Calabria un'astenzione a staffetta ora è il turno dell'istretto di Catanzaro Abbiamo posto al centro del dibattito due grandi temi Il primo Non si può amministrare giustizia con gli slogan è a costo zero Per amministrare giustizia ci vogliono risorse, uomini e mezzi Il Tribunale di Catanzaro ormai cronicamente è sottodimensionato a livello di organico Secondo tema Il tema dei maxiprocessi Cosa accade nella pratica applicativa? Molti procedimenti nascono singolarmente anche procedimenti che riguardano la competenza distrettuale ma che a valle delle indagini vengono riunite Questo implica che il processo diventa maxi con numeri da gigantismo processuale Noi chiediamo al Ministro e alla politica di assumere la responsabilità di restituire a Catanzaro un numero di giudici e di mezzi sufficienti per dare risposta adeguata alla nostra collettività ma diciamo anche sul territorio vediamoci all'interno della giudiziazione sediamoci intorno al tavolo perché alcuni problemi li possiamo e li dobbiamo risolvere noi e non possiamo trascinarci come stiamo facendo finora È stato un classico consiglio regionale di post estate dal ritmo ancora basso e lento quello che si è tenuto ieri Durato poco più di due ore la seduta dell'Assemblea calabrese alla fine oltre all'approvazione della proposta di legge di provvedimenti amministrativi che erano all'ordine del giorno l'aula è scivolata verso la conclusione dei lavori senza particolari sussulti Sentiamo Ordine del giorno non particolarmente ricco di contenuti ed assenze che hanno depotenziato il question time l'ultima seduta del Consiglio regionale pur già in autunno può essere qualificata come la più classica delle sedute di fine estate In poco più di due ore l'assise di Palazzo Campanella ha licenziato proposte di legge e di provvedimento amministrativo con un iter che non ha registrato alcun sussulto Per il question time momento di diretto confronto tra giunta e consiglieri sono rimaste senza discussione interrogazioni come quelle sulla bonifica di Crotone sul futuro dei lavoratori della Bramo Customer Care sulla depurazione e sull'ambiente in generale rinviate per l'assenza dell'assessore competente Altre interrogazioni invece sono state bypassate per l'assenza del consigliere regionale che le aveva proposte Circostanze che hanno spinto il consigliere del PD ma moliti ad evidenziare i ritardi con cui spesso si svolge la discussione sugli atti di sindacato espettivo Tra le interrogazioni che hanno ricevuto risposta quella sull'emergenza lingua blu e sul ritardo nel soccorso sanitario ad un paziente a taverna a causa di un'ambulanza sprovvista di autista Nella discussione del Consiglio spazio anche alle preoccupazioni per il futuro del sistema bibliotecario vibonese Due invece le mozioni approvate una riferita all'inserimento di una specifica sindrome nell'elenco delle malattie rare e poi quella presentata dal consigliere Denisi sulle misure urgenti per il disinquinamento della fascia costiera vibonese e del golfo di Lamezzeterme nei territori di Pizzo, Curinga e Lamezzeterme Non c'è pace per il pronto soccorso di Cosenza appena tre giorni fa dopo l'addio del dottore Urso Rocco Di Leo aveva annunciato di aver firmato il contratto di direttore dell'emergenza urgenza dell'ospedale annunziata di Cosenza per un progetto di rilancio e consolidamento oggi invece il passo indietro dello stesso Di Leo annunciato attraverso una nota stampa per certi versi sarcastica da parte della direzione aziendale dell'annunziata la direzione riporta il comunicato prende atto del ripensamento per ragioni cosiddette sentimentali dello stesso Di Leo e a proposito di questioni sanitarie è arrivato in Calabria un nuovo contingente di medici cubani il quarto da quando la regione ha iniziato questa straordinaria operazione i medici cubani appena arrivati saranno così distribuiti su tutto il territorio regionale 18 all'ASPA di Catanzaro 17 all'ASPA di Vibo Valencia 12 a quella di Crotone 9 a quella di Reggio Calabria 6 all'azienda ospedaliera annunziata di Cosenza e 4 all'ASPA di Cosenza i 66 camici bianchi si vanno ad aggiungere ai 267 che ormai lavorano stabilmente nei nostri ospedali in Calabria attualmente ci sono 333 medici cubani e altri ne arriveranno nei prossimi mesi fin tanto che la regione non riuscirà con i concorsi a coprire tutte le carenze di organico ancora presenti ed ora cambiamo decisamente argomento la Gioconda il capolavoro di Leonardo da Vinci al centro della prima puntata della web serie dedicata ad alcuni degli studi più interessanti condotti all'Unical il professor Soranzo analizza l'espressione della Gioconda basandosi sulla teoria psicologica dell'organizzazione percettive sul tocco artistico di ambiguità sentiamo Alessandro Soranzo ricercatore del Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria svela i segreti del sorriso della Mona Lisa impegnato da tempo in attività di ricerca nei campi della psicologia cognitiva della psicologia sperimentale e della psicofisica Soranzo ha pubblicato lo studio intitolato The Psychology of Mona Lisa Smile dedicato appunto ai meccanismi visivi e psicologici che si celano dietro la percezione che l'osservatore ha del sorriso di Mona Lisa e che chiamano in causa tanto la nostra mente quanto la genialità artistica di Leonardo nel suo studio Soranzo propone una nuova interpretazione fondata sulla teoria psicologica dell'organizzazione percettiva svelando uno dei misteri che stanno alla base dello straordinario successo dell'opera di Leonardo si tratta del cosiddetto tocco artistico di ambiguità una regione sfumata che incornicia la parte superiore delle labbra della gioconda Soranzo spiega come questa parte del viso della donna giochi un ruolo fondamentale nell'espressione percepita ma finora non si erano mai considerati i fattori dell'organizzazione percettiva che sono dei fattori scoperti solamente un secolo fa che sono dei fattori psicologici che spiegano come noi riusciamo a interpretare le immagini appunto l'ipotesi è che se l'espressione percepita cambia con la distanza della visione allora l'immagine è ambigua quindi i risultati di questi esperimenti sono stati entusiasmanti perché andavano proprio nella direzione dell'importanza fondamentale dei principi dell'organizzazione percettiva applicati al tocco artistico di ambiguità ed ora invece a Vibo Valencia dove le principali piazze della città si trasformeranno in enoteche a cielo aperto per l'ottava edizione di Vicoli Divini un ricco percorso enologico animato da 30 cantine calabresi tutto pronto a Vibo per l'ottava edizione di Vicoli Divini la manifestazione organizzata dall'associazione Saturnalia e patrocinata dal comune di Vibo Valencia e dal Galter Vibonesi che si svolgerà tra le piazze del centro storico domani 4 ottobre a partire dalle ore 19 un ricco percorso enologico animato da 30 cantine calabresi che trasformerà per una sera piazza Garibaldi piazza Largo Antico Collegio piazza Terranova piazza Giuseppe Nusdeo e piazza Carmine in una grande enoteca a cielo aperto dove incontrare il meglio delle produzioni vitivinicole regionali e conoscere da vicino aziende e vigneron che hanno scelto di produrre in Calabria valorizzando i vitigni autoctoni i vicoli divini ritorno al centro storico è nato tra i vicoli ed è giusto che ritorni lì attesa la manifestazione con grande fermento dal popolo vibonese ma non solo possiamo dire che la manifestazione abbia un'attrattiva regionale e creiamo ad ottobre possiamo dire anche un'occasione per attirare turismo in autunno in città si parte alle 19 fino a mezzanotte il punto di partenza è dal Palazzo Cagliardi dalla piazza in distante Palazzo Cagliardi dove il pubblico riceverà appunto il kit di degustazione che permetterà di scegliere tra 33 cantine presenti nel percorso ogni piazza avrà musica dal vivo street band artisti di strada arte che arricchirà i vicoli del centro storico un'offerta un'alta qualità offerta variegata per tutti un evento qualificato che valorizza il centro storico della città che fa arrivare tanta gente anche dalla regione Calabria tutta la regione per cui un evento che noi riteniamo debba essere sostenuto pubblicizzato e al tempo stesso fatto divenire un evento che si dovrà ripetere nel tempo e chiudiamo quindi con lo sport e con l'attesa conferenza stampa del direttore sportivo della Catanzaro Ciro Polito che dopo un bilancio sul mercato si dice abbastanza contento di quello che la squadra sta mostrando in campo ascoltiamo allora le sue parole noi sappiamo che ce lo siamo detti in estate che un campionale difficile dopo una stagione strepitosa o forse no due due e mezzo strepitose subentrare non è semplice anche per un allenatore cambiare radicalmente idea di calcio non è semplice io penso che è una squadra che ha cambiato molto per una squadra che oggi io quello che vedo durante la settimana alle partite posso dire sì forse stiamo offendendo poco però è una squadra compatta forse è una delle facciamo una proporzione una squadra che ha subito poco però ha offeso poco ma anche poco in fase offensiva anche sui calci da fermo perché abbiamo fatto zero gol e se vado a vedere tutta la serie B tante partite si sbloccano sui calci da fermo e oggi noi siamo a zero nella casella questo è un è un fattore importantissimo credo che è una squadra in crescita l'allenatore fondamentalmente ha giocato due partite e mezzo con gli esterni perché con la cremorese dopo 20 minuti si è fermato si è messo 3-5-2 e questa qui ma è una squadra che può fare diversi moduli ma l'importante è che si riesce a dare un impronto oggi io sono abbastanza contento è normale che ci aspettavamo qualcosa in più però sono sereno so che quello che prevale in questo campionato e almeno nel mio mestiere è l'equilibrio perché la serie B vinci una partita se è lì in mezzo alla mischia nessuno ha detto che dobbiamo andare in serie A la prima cosa che abbiamo detto è consolidare la categoria bene per il momento è tutto ci fermiamo qui vi ringrazio per averci seguito vi ricordo l'appuntamento con le prossime edizioni del nostro TG buon proseguimento sull'altro Corriere TV per aver guardato il nostro